Parla tifoso Partenopei! Siamo tornati con altre novità esclusive per te. Come sempre, ci impegniamo a tenervi aggiornati su tutto ciò che accade nel mondo del calcio, soprattutto quando si tratta del nostro amato club. Prima di iniziare, non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi al canale per ricevere in prima persona tutti gli aggiornamenti. Andiamo! Il Napoli è determinato a migliorare ancora, ricercando l'eccellenza in tutti i settori per portare buoni risultati ai tifosi. E oggi portiamo una notizia che sicuramente scuoterà il mondo del calcio, l'interesse del Napoli per il talentuoso attaccante Kevin Denkei, del Cercle Bruges, Belgio. Secondo il noto giornalista Giovanni Scotto, specialista di mercato, Denkei ha attirato l'attenzione di diversi club europei con le sue prestazioni impressionanti. Con 25 gol in 33 partite, l'attaccante alto 1,81 si è distinto per potenza fisica e capacità tecnica, caratteristiche che lo rendono un giocatore versatile e completo. Scotto sottolinea che il Napoli non è solo in questa disputa, c'è anche il Milan che mostra interesse per il giocatore. Jeffrey Moncada, responsabile scouting del Milan, ha già consigliato di effettuare delle ricerche su Denkei, dimostrando che l'attaccante è nel mirino dei maggiori club italiani. Il Napoli, però, sembra determinato ad assicurarsi la firma di Denkei, con il direttore sportivo Giovanni Mann e il presidente dell'Aurentis al lavoro su un'offerta che potrebbe rivelarsi irresistibile per il Cercle Brugge. La concorrenza è agguerrita, ma il Napoli è disposto a tutto per rinforzare la propria rosa e continuare a cercare grandi traguardi. E ora, cari tifosi, vorremmo sentire la vostra opinione su questo possibile acquisto di Kevin Denkei. Pensi che sarebbe un valore aggiunto per la nostra squadra? Lascia i tuoi commenti qui sotto e non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al canale per aggiornamenti più esclusivi da Napoli. Alla prossima novità! Forza Napoli sempre!